Nella vicina Valle di Cavedine, la scorsa notte, un orso ha colpito l'azienda agricola biodinamica del giovane Alessandro Comai, sgozzando sei pecore, ferendo mezzo gregge e una capretta. Il plantigrado ha divelto il recinto elettrico allestito secondo quanto prescrive il regolamento emanato dalla provincia e ha compiuto la strage, probabilmente molto affamato dopo il letargo invernale. Otto i capi che scappando sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto ieri mattina è giunto il corpo forestale con il servizio veterinario per verbalizzare quanto accaduto. Il titolare dell'azienda avrà diritto ad un risarcimento da parte della provincia, ma che non copre nemmeno il costo degli animali uccisi. Siamo davvero arrabbiati, ha detto un amareggiato Gianni Comai, perché ormai non sappiamo più come difenderci. Il recinto era proprio per evitare che succedessero cose del genere, ma a quanto pare non è servito. Non è tanto il danno materiale quanto vedere andare in fumo tanti mesi di lavoro e vivere in una situazione di incertezza. La zona alle pendici del Monte Bondone è un luogo adatto agli orsi che ci vivono stabilmente.